Appuntamento finale a Penne per la prima edizione del progetto Raccolta Tappi. L'iniziativa avviata alcuni anni fa grazie alla collaborazione tra Croce Rossa Italiana, Comitato di Penne e la società Ecoalba che in città gestisce la raccolta dei rifiuti. Il progetto di raccolta ha coinvolto lungo l'arco di questo periodo le scuole, gli esercizi commerciali, i cittadini e tutti i volontari del territorio di competenza del Comitato Croce Rossa Penne. Da un po' di anni fa è partita questa iniziativa e tramite appunto questa proposta siamo entrati nelle scuole, abbiamo avuto anche un'ottima risposta da parte della collettività di questi comuni. Siamo riusciti a raggiungere il primo obiettivo, il primo step diciamo, che è l'acquisto di un presidio per il reparto di dialisi di penne. La lettica semirigida, acquistata con il ricavato dello smaltimento di questi tappi raccolti, consente di trasbordare il paziente dalle lettighe ai letti in bilancia. Permette il trasferimento appunto dei pazienti dal letto alla barella in maniera più semplice sia per l'operatore che deve spostare il paziente, quindi facilita l'operazione di spostamento ma rende anche lo spostamento più delicato, più dolce del paziente perché il paziente non verrà trascinato ma verrà fatto scivolare tramite questa barella semirigida. La consegna è avvenuta nel pomeriggio di ieri. Ancora una volta le associazioni hanno risposto alla grande e con esse tutto il territorio. Spesso sono pazienti che si muovono poco, con delle limitazioni funzionali, amputati, anziani e quindi non sempre in maniera ufficiale ad assisterli nel miglior modo possibile. E quindi la loro collaborazione è sicuramente fondamentale per tutti noi perché ci danno una grossa mano. Una data significativa, quella scelta dal comitato per la consegna. Infatti il 24 maggio avrebbe compiuto 36 anni Gabriele D'Angelo, volontario della Croce Rossa scomparso nel crollo dell'hotel Rigopiano. A lui è intitolata sia la sede sia il comitato locale e quindi ci sembrava a noi volontari opportuno farlo in questo giorno pure perché diventa una tappa fondamentale anche ricordare questo nostro volontario.